Ciao a tutti amici miei, bentornati il vostro rollo qui per presentarvi cosa una grandissima novità Tourist Bus Simulator, sì, degli stessi sviluppatori di Fairbus Simulator Chi conosce il mio canale lo sa, ha visto già i video di quello splendido simulatore di bus, della Flixbus Oggi invece portiamo una novità, proprio fatta dalla TML Studios insieme a PDP Sono due case di sviluppo molto interessanti, indie, che ha portato alla luce questo prodotto ragazzi Secondo me è interessante, ancora non ho visto granché, ho letto qualcosa su internet, sul web Ci sono ancora dei bug ovviamente, il gioco è solamente in inglese e altre lingue che non sono purtroppo l'italiano Ma oggi ce lo giochiamo, vediamo com'è, lo scopriamo insieme, dai Ecco la presentazione Atterra un aereo amici, che è o X-Plane Che sto portando, vediamo un po' l'atterraggio di questo Boeing Questa dovrebbe essere l'isola di Forteventura, eh, in Spagna Bell'atterraggio dai, non male Buono, ci è piaciuto l'atterraggio qui a Forteventura Vedete, una sorta di presentazione vera e propria E qui ci fa selezionare il personaggio Allora, male 1, quindi maschio 1, 2 e 3 Poi c'è female, quindi femmina 1, 2 e 3 3 tipologie per sesso E io direi, ragazzi, andare su male 1, dai Sì, prendiamo questo Ok, qui mettiamo LOL ovviamente Oggi lo facciamo ovviamente tutto quanto insieme Poi vorrò portare, secondo me, altri gameplay Poi ditemi voi cosa ne pensate, ma secondo me è molto interessante Se è come fermo un simulator, questo vale la pena giocarselo Una sorta di story mode, una sorta di storia vera e propria Oltre che manageriale GDR proprio, perché adesso lo vedrete Poi mettiamo realistic come sempre, come controlli Certo, vai Ok, siamo The company Lascia l'aeroporto e va in macchina Ok, la company Eeeh, vediamoci un attimo quest'aeroporto Lì c'è il shake-in Carino Guardate tutti i negozietti dell'aeroporto Alige Un tizio Boh, mi è venuto addosso senza fare nulla Ok, dice 38 metri, vedete là Dritto Però andrei anche a vedere Dentro questi uffici Cosa c'è? Si è fatto bene ragazzi Hanno usato il motore di gioco Array Engine 2500 euro Ragazzi Io me li prendo C'è qualcuno? Non ci vede nessuno Sapete che c'è? Intascati 2500 euro cos'è? Così proprio rubati ragazzi L'ololadro Cioè non lo sapevo Ho visto questo Oddio ho detto oh Ma si possono prendere? Allora a questo punto controlliamo pure gli altri Gli altri uffici Le altre scrivanie Non ho capito E dai Allora non fare il malandrino L'ololadro Tipo tiffa simulator Qui inizia E' fatto bene graficamente Detto motore di gioco Interessante Ma qua non mi sembra che ci sono altri soldi Ok possiamo andare Io a sto punto ragazzi Lascierei l'aeroporto Carino E questa è l'uscita Io andrei Da quella parte Ci fa uscire Si Lì c'è la nostra macchina Come vedete Fatto bene ragazzi Fatto bene Vero? Vi devo anche ne pensate A Forteventura Le sole dei canari Ovviamente Allora andiamo in macchina Ok siamo entrati Adesso dovremmo accendere la macchina Ok ragazzi sto Intanto sto provando Ho acceso la macchina Mi dice Di Mettere la marcia Successiva Quindi c'è E' una marcia Elettrica Macchina Scusate Elettrica Macchina Con cambio Automatico Qui stiamo N Ragazzi sono riuscito a mettere La marcia Adesso ovviamente mi dice Di Di accelerare E seguire La strada Poi metterei la luce Si mettiamo la luce Va Che sembra tipo l'alba Andiamo avanti Che baghetto Ce l'ha sicuramente Ci dice di guidare Verso La nostra compagnia Quindi dobbiamo amministrare Vi dico un po' il gioco Una vera e propria compagnia Di bus Bus Turistici Ovviamente siamo in una zona Turistica Come questa di Forteventura Andiamo dritti Non vorrei fare cazzate Ah qui c'è anche un benzinaio Come vedete Lo possiamo andare a 30 all'ora Qui Non so ci sono multe Non so come funziona Sinceramente Possiamo andare a 50 all'ora Bueno Bueno Adesso andiamo verso la compagnia Me la faccio questo pezzo di strada Era solo per farvi vedere un pochino Anche la grafica Migliorabile Devo dire Migliorabile Non è malaccio Ma è migliorabile Si guida un po' così Sta macchina Bah Un po' di difficoltà Però va bene dai Accettabile Accettabile Allora siamo Elmatoral Dovrebbe essere un quartiere Di Fuerteventura Io non ci sono mai stato Sinceramente non lo so Andiamo a sinistra Qui ovviamente Ci sono problemi con l'IA Sicuramente Perché vedo che le macchine Non si fermano assolutamente Qui vedo che c'è un negozio Uno shop Vedete dove possiamo andare Qui un posto per mangiare Molto GDR Un posto per mangiare E lì ci sta il nostro ufficio Qui una palestra E qui dentro Ok Park in the yard And exit Il veicolo Ok Parcheggiamo qua Io ragazzi Parcheggio qui ovviamente Entro Ah posso parcheggiare qui dentro Buono Ok Vai Vai Parcheggiato Ok Sono uscito dalla macchina Mi fa Company name Ragazzi subito Company name Io la chiamo la Lollos Club Ragazzi Oppure Lollos Tourist Che ne so Boh Mica lo so Ma chiamiamola Lollos Club Va Che conosciamo tutti quanti Che è il club del Lollo Come se fosse un club Asta compagnia Vai Bene Siamo qua davanti Entra il tuo ufficio Ci dice Ovviamente questo Sembrerebbe una sorta di tutorial Si può entrare Ok Il primo bus Va al computer E compra il tuo primo autobus Quindi Dobbiamo anche comprare Il primo bus Per fare i nostri viaggi Ovviamente poi Dobbiamo amministrare il tutto È veramente fatto bene Mi piace Ok Allora Clicca Qui ci dice Clicca su questo bottone Per aprire Il second hand vehicle market Poi Allora qui scegli Uno dei possibili veicoli I dettagli E le opzioni di acquisto Saranno spiegate E dettagliate molto bene E poi clicca su compra Per averlo Ovviamente nella tua lista Va bene Quindi Andiamo su Second hand vehicles Ah Sono veicoli di seconda mano Perdonatemi Sono quelli usati Eccoli qua Allora Qui ci dice Lo stato Del nostro Bus 71,9% 74.100 euro I ragazzi Di budget 200 2.500 Abbiamo Quindi La scelta Dei bus Dobbiamo scegliere Uno Buono Io andrei subito Sul lion coach Normale Non nel coach Ovviamente la man Ha dato Il privilegio Di poter Mettere i propri bus A disposizione Di questo Simulatore Io andrei su uno Abbastanza sano Ragazzi Andrei su uno Per esempio Questo qua Da 119.000 Io vedendo tutti i prezzi Ho verificato un pochino Questo da 119.000 Che sta al 94% Mi sembra molto interessante Perché questo Da 123.000 Sta al 90% Questo 147.000 Sta al 95% Gli altri Sono scarsi 68 73 Insomma Andiamo per esempio Su questo E ci dice Vedete Le condizioni Del cambio Dell'olio È da fare È da fare A gennaio Del 2018 13.800 km Ne abbiamo fatti 6.000 Cambio di gomme Sta a posto Change V-belt Sta a posto E anche Il liquido Dei freni Sta a posto Componenti Tutti perfetti Perché ci sono Altri autobus Che hanno i componenti Che non vanno Io ragazzi Compro questo Sì Fu al 129 litri Ha fatto 107.000 km Lo vedete qua Tutto sommato Le condizioni Non sono male Solo il cambio Dell'olio Dobbiamo fare Dai Compriamolo 119.000 Vai Ok Fatto Adesso Dobbiamo andare A prendere Al porto Eh sì Entro il 5 giugno Vai Infatti Ci dice Vai al Wall Clock E apri il calendario Qual è Wall Clock Eccolo qua Wall Clock Non lo vedevo Perdonate Il calendario Clicca su questo bottone Per il prossimo appuntamento Tu puoi anche Invece quest'altro Puoi andare direttamente Sul giorno Ok Io vado direttamente al giorno Eh sì Vado a prendermi il bus Il 5 Per forza Skip time Guida fino Guida fino al porto Per prendere il tuo bus Quindi ragazzi Io vado a riprendere la macchina E me ne vado a prendere il bus E me ne vado a prendere il bus Dai eh Ma se è bella casetta Casetta Bell'ufficio Che c'è qua Che c'è qua Che ha aperto Ah pure Un'altra scrivania Employees E qui ci sono I dipendenti Andiamo un po' Ma qua Una specie di Magazzino Bell'ufficio Certo Un po' cicolanti le porte Però fico Vabbè andiamo va Non perdiamo tempo Dai eh Ok Adesso dobbiamo uscire Da questa trappola Amici miei Ma c'è una visuale esterna? Non c'è una visuale esterna Non lo so No Come cavolo faccio? Andiamo con lo specchietto va Sperando di non fare cazzate Non ho fatto cazzate Bravo Lollo Ok Messa la prima Andiamo Frena Ok Seguo la strada Amici miei E vado a prendere il bus Dai eh Siamo in una sorta Di centro commerciale Siamo quasi arrivati Spero al porto Che mi ha fatto fare Tutta una strada diversa Una trattoria Italiana Guardate che spettacolo Però dai A me piace ragazzi Come gioco Continuo a ripeterlo È da portare Un'altra serie Un altro gameplay Adesso andiamo a vedere Come è il bus Cosa fondamentale Andiamo piano Non ammazziamo nessuno Farmacia In questo momento Mi serve anche a me Perché ho ancora Un po' di tosse Non passa Ragazzi Non passa Sta tosse Vediamo se arriva qualcuno Nessuno Abbiamo preso un altro posto Abbiamo esplorato La baia Lo scrive a sinistra Baia Beach Qualcosa Non ho letto bene Grande Qui nave Grande nave Avete visto a destra Santana Experience È stata esplorata Tutte le zone Che stiamo esplorando Ci fa vedere Mazza che viaggione Ragazzi Mi dice di girare qua L'autobus Dovrebbe stare qua Dentro Non lo spero Ragazzi Io la parcheggio qua Eccolo il bus Eccolo Bianco Vabbè No Io direi di spegnere La macchina Ok Spento la macchina Ho messo il freno a mano Scendiamo E adesso andiamo sul nostro bus Ok Bello dai Ok Primo bus Lascia la tua macchina E guida il bus Verso la tua compagnia Quindi lasciamo qui la macchina E adesso portiamo il bus Nella compagnia Per forza Ok Ho messo intanto In posizione neutrale Anche questo ovviamente Automatico Il cambio Accendiamo Ok Acceso ragazzi C'è pure la musica Sottofondo Ok Io però ragazzi Farei una cosetta Accendiamo l'aria condizionata Adesso Togliamo Il freno a mano E possiamo partire Vai ragazzi Finalmente Il nostro bus Vabbè Molto simile A Fernbus Simulator E andiamo Adesso guidiamo Verso la nostra Company Rai e ragazzi Aspettate che C'era una macchina L'avevo vista Attento Lollo Attento Lollo Ecco Iniziamo bene Primo danno Dell'ollo Ok Facciamola passare Bene ragazzi Primo danno Dell'ollo Avete visto Subito Il danno Sul suo bus Spero Spero non si sia Rovinato troppo Perché qui Bisogna amministrarlo Bisogna anche Riparare i danni Ovviamente È molto più GDR Insomma Bisogna fare in modo Di non fare Queste cazzate Ma bisogna Sapere anche Un attimo Guidarlo Io devo Preterci un po' La mano Ragazzi Perché Non è così Perfetto Il gioco Bisogna dirlo Un pochino di Baghetti Comunque vabbè Tutto sommato È giocabile Dai Non ci lamentiamo Migliorerà sicuramente Perché DML Studios Comunque su Fermo Simulator Ha sempre fatto Nuove patch In continuazione Quindi Speriamo bene Mamma mia che difficoltà Ragazzi Su queste strade Strette È veramente Difficile Guidare il bus Torno nella Company Siamo tornati Al Matoralla Amici miei Andiamo a sinistra Piano Guarda se Ti vado addosso A questo No è andato Tutto bene Per fortuna Piano Lollo Che già Hai fatto Un danno Qui c'è Uno stadio Di calcio Scusate Mi devo Fermare Faccio Vedere Guardate Stadio sintetico Fatto bene Carino Mi piace Bravi Ok Parcheggia All'interno Il garage Esci dal veicolo Ok Io posso Parcheggiarlo Lì dentro Ragazzi Per forza C'è altro C'è il posto Per parcheggiarlo Sì per forza Ok direi Parcheggiamo Treno a mano Spegniamo E usciamo Dal veicolo Ok Entriamo Nell'ufficio Per fare il primo viaggio Poi magari il primo viaggio ce lo facciamo Un'altra volta Intanto io Lo vado a prendere Ok Apriamo Scendi E' veramente fatto bene Il manageriale E' carino ragazzi E' fatto bene Molto interattivo Devo dire Quindi andiamo in ufficio Zona veramente Rozza Comunque Andiamo nell'ufficio Ok vai alla Fax machine Per vedere il tuo primo ordine La macchina del fax Eccola lì Allora Clicca su questo bottone Per vedere gli ordini Possibili Poi clicca E Ordinando E conferma Puoi trovare Puoi cercare I tuoi Ordini accettati Cliccando su quest'altro Current orders Va bene New orders Abbiamo un viaggio La linea 101 Elmatoral Puerto del Rosario Trip short Un'ora e 40 500 euro 6 giugno Alle 8 Ragazzi Io intanto questo Lo prendo Benissimo Current order E' questo Ovviamente Adesso uscirò Dovrò andare sul calendario Andare al 6 E poi iniziare il viaggio Sicuramente Linea 101 Elmatoral Puerto del Rosario Bene Apri il calendario ancora E appunto Schippa Il tempo Al prossimo appuntamento Vi ricordate come ho fatto prima Da qua Quindi dal calendario Io mi fermo qua ragazzi Perché è stata anche abbastanza lunghetta Questa presentazione Di questo gioco Spero vi sia piaciuto Lecche condivisioni Mi raccomando A me piace Lo voglio portare Voglio far vedere il primo viaggio Penso io farò subito Un altro gameplay Immediato Così almeno facciamo Questo primo viaggio E valutiamo un pochino Com'è effettivamente Il gioco Certo Ci sono dei bug Dovrò essere Pecciato sicuramente Però tutto sommato E' giocabilissimo Nessun grosso Bug enorme Che non ti permette Di fare viaggio O qual'altro Commentate Ovviamente sempre Quello che pensate Del gioco Mi raccomando Notifica Come sempre Così rimanete incollati Sul canale Del Lolo E avanti così Ragazzi Con tutti i giochi Del Lolo Ci vediamo Alla prossima Con Tourist Bus Simulator E tutti gli altri Alla prossima Un abbraccio A Lolo Ciao ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima